Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta soffice alla ricotta e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, farina, sale, ricotta, olio di semi, lievito per dolci, vanillina, zucchero a velo, gocce di cioccolato e per decorare cioccolato fuso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero, e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, velocità a 4. Aggiungiamo la ricotta, l'olio, la farina, il lievito e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi, a velocità a 4. Uniamo le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, anti-orario, velocità a 2. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo rettangolare del centimetri 30 per 20, ben imburrato. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo e decorare poi con zucchero a velo e cioccolato fuso. Torta soffice alla ricotta e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!